Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento nel quale affrontiamo diverse tematiche. Questa sera tratteremo di un argomento che è direi caro, molto caro ai fanesi e che è stato al centro anche in passato di alcune discussioni, di argomentazioni, insomma il verde pubblico, un'immagine, una cartolina, una fotografia della nostra città che bisogna sempre cercare di dare al meglio e per fare questo il Comune di Fano ha iniziato e intrapreso una strada ben precisa. Introduco subito gli ospiti con i quali affronteremo questa argomentazione questa sera, ovvero sia il Presidente di Asia da Paolo Reginelli, buonasera, benvenuto, ed il responsabile proprio del servizio nuovo fresco di pacca, non lui ma il servizio del verde pubblico in Aset, quindi un'ulteriore aggiunta ai servizi che Aset di cui si occupa. Allora iniziamo subito dal Presidente Reginelli, allora è una novità assoluta per Fano ma è una novità assoluta anche per voi? Sì, è una novità assoluta per noi perché non avevamo esperienze in questo settore, tant'è che ad esempio nelle poche situazioni nelle quali dobbiamo gestire il verde, che ne so, all'interno ad esempio della discarica oppure dei vari pozzi a servizio del servizio idrico, questo genere di servizio, quello della manutenzione del verde, lo esternalizziamo, quindi non avevamo né personale né modalità operative tali da poterci confrontare con questo nuovo servizio. È successo e ne siamo estremamente felici da questo punto di vista che il Comune ha deciso di darci questo incarico, quindi dal primo gennaio del 2019 siamo responsabili della gestione del verde. La gestione del verde a Fano parliamo di una cosa estremamente complessa e non banale perché parliamo per quanto riguarda il nostro incarico di 500.000 metri quadrati di verde, anche se in carico al Comune ce ne sono altre 700.000 che poi sono state delegate alle varie associazioni sui quartieri e tutto, quindi questo per dirvi la mola enorme di verde che abbiamo nella città. Parliamo di 1.450 piante perché nei compiti che noi abbiamo c'è oltre ai tagli cosiddetti orizzontali e quindi gli sfalci, l'erbetta a 2 cm, 3 cm, quello che è, c'è anche tutto quello che riguarda le potature. Le potature sono degli interventi necessari per le quali, se probabilmente qualcuno è rimasto un po' indietro nella gestione delle potature, ci troviamo con un numero di piante che ha bisogno di questo trattamento e ci troviamo anche con delle scelte da fare e delle normative ben precise. Le normative intanto ci dicono che questo genere di attività può essere portata avanti dal 1 novembre al 31 marzo. Quindi quest'anno abbiamo fatto le potature solo nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo. Sappiamo che per quanto riguarda gli accordi col Comune abbiamo in carico la potatura di 2.500 piante ogni anno, questo perché? Perché volevamo fare in modo che si riportasse quella rotazione naturale che prevede un intervento sulle stesse piante ogni 3-4 anni. Quindi facciamo conto che sui 1.450 piante intanto non tutte necessariamente ha bisogno di questo trattamento. Con una presa in carico il regime di 2.500 piante nel giro di 4 anni il parco pubblico del Comune di Fano è ripristinato e quindi si può iniziare a ragionare sugli interventi successivi e su ritoccare ulteriormente queste piante. All'inizio è stato estremamente difficile, dovevamo in qualche modo oggettivizzare quello che stavamo facendo perché le aspettative erano tante. Quindi abbiamo pensato che il metro fondamentale di rispetto nei confronti dei cittadini sia stato quello intanto di evidenziare le aree dove andavamo a fare gli interventi in modo che potessero confrontare quello che dicevamo a gennaio e quello che poi abbiamo effettivamente concluso al 31 marzo. Un'altra cosa importante era far capire perché si interveniva in determinate zone piuttosto che in altre e quello l'abbiamo fatto capire perché secondo noi era più importante intanto determinate aree a forte attenzione turistica, parliamo ad esempio di tutto quello che ha a che fare con Lido, Via Le Cairoli e poi certi viali che avevano una caratteristica, quella di avere degli alberi d'alto fusto e questo per noi era estremamente importante perché volevamo anche capire lo stato di salute di queste piante. Quindi è stata un'occasione per fare queste due cose. Poi la cosa è andata secondo noi al di là di ogni più rosa aspettativa perché non abbiamo avuto intoppi di nessun genere, le modalità con le quali stiamo facendo attualmente questo servizio, poi riguarda anche altri interventi che spiegherà meglio Garofalo, il responsabile del verde, perché parliamo anche di ripristinare piante che abbattiamo, per motivi di salute, parla anche di decoro, quindi ci sono tutta una serie di interventi che non sono ulteriori a quelli che stiamo facendo adesso. Per noi c'è una delle difficoltà legate ad esempio all'assunzione del personale perché nell'immediatezza non potevamo in nessun modo assumere del personale perché è un'azienda pubblica, c'è i bandi, tempi di pubblicazione, selezione, varie visite mediche, tutto quello che concerne la regolare assunzione dei dipendenti. Abbiamo già dall'inizio, dopo un lavoro splendido fatto sull'individuazione delle aree, anche determinato il fatto che volevamo una squadra di tre persone a tempo indeterminato che potessero in qualche modo seguirci tutto l'anno, perché poi tra tagli, potatura, pensiamo che siano importanti tre persone che possano fare questo per i 365 giorni all'anno. E in più altri due che potevano sopperire il periodo di maggior punta. Poi naturalmente non ci inudiamo che queste due squadre possano abbastare e ci sono anche dei bandi esterni per la gestione dei grandi tagli e tutto il resto. Quindi un bel tabellino di marcia. Allora che chiediamo subito a Giorgio Garofalo che gestisce questa ulteriore branca di Aset, ma lo abbiamo conosciuto in passato per il relamping di Cubene, pubblica illuminazione, il relamping di Fano, pubblica illuminazione che è un altro asset di Aset. Quindi insomma l'uomo delle alte vette, possiamo dire. Tutto ciò che sta in alto è competenza di Giorgio. Colui che guarda in su, che guarda verso l'alto, che guarda in su. Allora, Garofalo, un impegno importante, misurarsi anche con una nuova sfida, immagino che per voi, responsabili e tecnici, insomma non sia stata una cosa, una passeggiata, insomma. Assolutamente no. Siamo, diciamo, nella fase del primo consumtivo, perché come ha illustrato il presidente, abbiamo cominciato dal primo gennaio con le potature verticali, quindi con gli alberi. Abbiamo un parco di circa 14 mila alberi sul territorio e devo dire subito con il metro che ci appartiene abbiamo cercato il governo dei dati sul territorio, cioè fare un database, in parte l'abbiamo già ereditato dal comune, ma siamo partiti subito con una campagna di rilievo per caratterizzare ogni via, parallelamente però in corsa con le potature che si avviavano. E questo ci ha portato subito a scoprire, noi diciamo abbiamo messo su questa macchina organizzativa, ma ci avvaliamo della collaborazione di agronomi esterni, di ditte che già in precedenza operavano sul territorio e quindi, diciamo, la macchina è partita. È partita e non le chiamerei difficoltà, ma sicuramente novità per noi e problematiche intrinseche alla tematica che si va ad attuare, che è quella delle potature. Quindi rispetto subito della pianta, però al tempo stesso attenzione per gli indici di rischio e attenzione per tutto quello che c'è al contorno. Abbiamo, non dico scoperto, ma dovuto porre molta attenzione, ad esempio, nella programmazione delle potature. Ci sono enti che vanno informati, diciamo, con priorità, come l'assan per il cancro del platano. Nel 2012 fu focolaio proprio Fano. Quindi un'attenzione organizzativa che talvolta, diciamo, è dietro le quinte e potrebbe sfuggire al cittadino che ci riporta chiaramente quelle che sono le sue problematiche e quindi interferenze radicali, interferenze aeree e quindi va il tutto mediato, mediato nel rispetto della pianta, ma come ripeto, abbiamo fatto 1.340 potature nel periodo gennaio-marzo, il periodo concesso, diciamo, dalla forestale, ma dal regolamento regionale e poi con tutto quello che comporta anche per quanto riguarda quelle che sono le chiamate che arrivavano attraverso il numero verde, che si è rivelata la miglior strada di input per quanto riguarda l'esterno, in quanto una volta addestrati, diciamo così, gli operatori del numero verde, che sono molto validi per dare le informazioni di base, noi con una media di circa 40-50 chiamate a settimana abbiamo operato e non tralasciato nessun sopralluogo. All'inizio ci siamo accorti magari che mancavano le indicazioni per far tornare un feedback al cittadino, quindi abbiamo richiesto al numero verde o l'email o il numero telefonico, se qualcuno lo lasciava, proprio per dare un segnale se non altro che eravamo passati e abbiamo valutato la situazione. Non abbiamo potuto fare tutto, abbiamo 14.000 piante sul territorio, abbiamo dovuto far capire che le piante extraurbane sono competenza dei frontisti, mi riferisco a quelle che sono ad esempio il regolamento di polizia rurale o del codice della strada, quindi anche lì una problematica che esiste sulla città, però va condivisa, ASET non può far fronte a tutto, però anche lì abbiamo fatto sopralluoghi, interventi, ci sono stati caduti di alberi importanti, però anche lì diciamo abbiamo avuto l'accortezza di operare con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco e appunto con la collaborazione dei frontisti agricoli, ma questi sono altri argomenti. Per quanto ci riguarda diciamo noi abbiamo intanto messo in piedi questa squadra operativa interna, pensiamo che nel nuovo contratto che parte adesso di appalto esterno richiediamo fino a 10 squadre sulla città nei momenti di picco, più due squadre interne con tre elementi operativi in pianta stabile e due stagionali. Cominciamo adesso perché chiaramente c'è un iter che ci impone di fare le cose per bene e farle secondo la norma, per cui dalla fine di maggio avremo anche la squadra interna e questo ci avvantaggia, ci avvantaggia per tutta quella serie di chiamate perché fare una programmazione è ben difficile interromperla in corso d'opera e fare l'emergenza, quindi come era nostra idea iniziale abbiamo dovuto fare questa squadra interna proprio per far fronte a tutte queste chiamate puntuali che avvengono normalmente, pensiamo agli eventi meteo, lo vediamo in questi giorni, in questa giornata in particolare, che non sono prevedibili, che sta nelle cose che gli alberi perdano qualche ramo. Certo, la scelta di potare i grandi alberi e al tempo stesso fare delle valutazioni tecniche, abbiamo incaricato un agronomo esterno di fare delle cosiddette VTA sugli alberi singoli, mettere a disposizione dell'Assam e del Comune, adesso sarà pronto il primo pacchetto su viali importanti, sofferenti come Vialitalia che sarà mira delle nostre potature nella prossima stagione. Parallelamente abbiamo avuto problematiche ad esempio da affrontare con la processionaria molto importante per la salute pubblica, abbiamo fatto circa una trentina di chiamate, devo dire che fortunatamente sta diminuendo la frequenza, nella prossima stagione opereremo anche con trappole meccaniche o basate sui fenormoni specialmente nelle scuole. Non ho problema a dire cose nuove per noi. Ripeto, avvalendoci della collaborazione di agronomi e ditte già specializzate, la nostra esperienza organizzativa ha chiuso il cerchio, ma questo con grande ritmo giornaliero. Subito dopo le potature siamo passati alle aree verdi e anche qui ho scoperto che ci sono siti istituzionali importantissimi, pensiamo alla chiesa di San Francesco che fortunatamente è una frequentazione sui matrimoni importante e quindi con la calendarizzazione. Tutte le feste di fine anno e la frequentazione didattica dei giardini delle scuole e anche questo ha portato un ritmo di sfalcio partito subito a gran regime perché abbiamo circa 34 scuole comunali e quindi come potete capire la richiesta è praticamente simultanea e anche arrivando a 10 squadre ce ne vorrebbero 34 paradossalmente. Ma diciamo che un certo regime retazionale l'abbiamo attuato preventivamente e abbiamo cercato di soddisfare tutti. Abbiamo avuto anche, siamo andati in concomitanza con il rinnovo delle concessioni perché ASET è chiaro anche lì il cittadino può non capirlo subito però ha 400 aree. Parliamo chiaramente di una cosa tipo 504 mila metri quadri e quindi la concessione, cioè tutte quelle associazioni che si adoperano all'assetto verde della città sono basilari, sono importantissime per noi. Così come i cigli stradali, mi piange il cuore quando vedo che non è tutto fatto però noi abbiamo dovuto restringere alla green zone cosiddetta praticamente centro storico Sassonia e Lido la cura anche dei cigli stradali ma anche lì contiamo, lo dico da cittadino per primo, sulla collaborazione dei cittadini perché tanto la cura della particella di proprietà sarebbe bello poterla fare di chiaro che non ci arriviamo, non ci arriviamo per tutta la città ma poi è cosa naturale anche curare insomma l'uscio di casa per così dire. E comunque anche lì attueremo ad esempio l'uso di contenimento degli infestanti con sostanze ecologiche. ci rimarco questa parola perché anche se meno aggressive devono esserle sul suolo pubblico però ci daranno una mano appunto senza invadere l'ambiente naturale. E quindi tutto questo è in breve il panorama con cui ci confrontiamo. Beh immagino che poi c'è un discorso anche di guardare un po' all'orticello di casa propria è bello perché poi magari se tutto il contesto attorno a noi è un contesto ordinato viene anche più spontaneo e dici vabbè questo qui me lo sistemo io poi spesso i cittadini anche in passato hanno detto vabbè ma me lo faccio io basta che mi dite che me lo posso fare. Cioè è successo questo? Quindi diciamo lo sponte, l'indole del cittadino c'è a questo. Beh secondo me giustamente convogliato e stimolato in un contesto poi più generale dove le grosse, la macro operazione va gestita dalla macchina comunale o dall'asset. Reginelli l'impatto visivo anche è stato penso immediato. Cioè non siamo resi conto proprio facendo un giro nei giorni in cui operavate che veramente la città di Fano ha cambiato volto in alcune zone. Sì perché la scelta comunque di intervenire su determinati viali, determinati zone in maniera puntuale e precisa, cioè anche l'informazione che noi abbiamo voluto fare l'abbiamo fatta anche per quello, per rendere conto alle persone di quello che si stava facendo perché non sempre ci si rende conto effettivamente di quello che si stava facendo. Quindi con The Report quasi, non dico quotidiani ma settimanali, sicuramente si dava l'idea di quello che si stava facendo nella città. I feedback sono stati estremamente positivi. È successo che poi finita la partita del 31 marzo con le potature ci siamo trovati a gestire la Pasqua il 25 aprile, il primo maggio in cui capiamo la pressione, le richieste di coloro che hanno a che fare col turismo, di coloro che vogliono semplicemente godersi una passeggiata e quindi è stata un po' una corsa contro il tempo per garantire un po' tutte queste date e la cura del territorio. Per noi è una grande scommessa intanto perché da un punto di vista professionale e continuo a ripetere è una cosa estremamente nuova ma perché riteniamo che abbiamo delle capacità tecniche sia dirigenziali quindi di sovrintendere che dal punto di vista professionale per poter anche presentare questi servizi in altre aree. Noi abbiamo dei comuni soci quindi vorremmo valutare anche questo genere di approccio con altri comuni per un servizio che per noi è innovativo ma penso che ci stia nelle cose perché comunque si tratta di beni pubblici, si tratta di un confronto con le amministrazioni e soprattutto con i cittadini che fino ad oggi ASET ha sempre portato avanti in maniera cristallina, chiara e professionale. Bene così, allora prima di far chiudere al Presidente una cosa, il tabellino di marcia cosa prevede per i prossimi settimane? Attuando in questo periodo le potature, gli sfalci sulle aree verdi, intanto raccogliamo e abbiamo già raccolto, abbiamo un nostro programma interno ma diamo sicuramente priorità a quelli che sono stati gli inviti della cittadinanza che poi collimavano con le nostre vie di maggiore attenzione e quindi abbiamo potuto redigere il programma delle potature della prossima stagione questa volta partirà circa dal 1 novembre al 31 marzo. Quindi abbiamo già un piano preciso in cui poteremo oltre 2.000 alberi dando priorità a tutte quelle interferenze aeree, ad esempio ce ne sono molte fra gli alberi e gli edifici che non abbiamo, nostro malgrado, potuto fare in questa prima stagione. Però è nelle cose e nei numeri, insomma, non potevamo fare tutto la prima stagione. Il cittadino come fa ad entrare in contatto con voi? Per segnalare, abbiamo accennato al numero verde prima. Allora, abbiamo vari canali d'ingresso dal nostro centralino normale ma io consiglio di farlo con il numero verde del verde, un verde al quadrato devo dire, un numero verdissimo perché a parte le battute funziona molto bene nel senso l'ho provato anche direttamente, non ci sono intasamenti e il personale che risponde è già preparato ad una risposta di base. Poi dopo li mette in contatto con noi e noi contattiamo sempre, se il cittadino ci rilascia o un'email o un numero telefonico ci teniamo a contattarlo e dire quale sarà la risposta alla sua domanda. Benissimo, allora lo ricordiamo, adesso lo dico così, dopo magari se ce lo richiedete ve lo rideremo, il numero verde è 800-995-070, giusto? Sì. Ecco, quindi segnatevelo se avete esigenze in tema di verde pubblico, 800-995-070, lo potete utilizzare. Reginelli, una chiusura, siete contenti di questa operazione? Sì, siamo molto contenti perché francamente sapevamo anche che era un'operazione estremamente rischiosa, sulle quali c'erano delle grandi aspettative, sia da parte del pubblico che da parte dell'amministrazione, quindi penso di aver superato questa prima trance, quindi questo impatto che è stato determinante. Chiediamo un po' di pazienza, ma non una pazienza biblica, perché nel momento in cui ci sono delle risposte da parte del numero verde, attenzionarsi al fatto che se effettivamente non vengono, non dico mantenute le promesse, però rispettate quei termini, non aver nessun scrupolo, né a ritelefonare, né a rifarsi sentire. Bene, dialogo con la cittadinanza, l'interazione tra cittadini, enti e associazioni sicuramente darà buoni frutti, e direi che la partenza è stata sicuramente molto buona. Salutiamo e ringraziamo il responsabile del servizio verde pubblico e pubblica illuminazione e SIT, che sarebbe SIT? Sistemi informativi territoriali, la base dati di tutti i settori. Non si fa mancare niente, Giorgio Garofalo, grazie per essere stato qui con noi, e al presidente di ASET, Paolo Reginelli, grazie per la sua presenza qui, e grazie a voi, quindi ricordate, verde pubblico, ASET è a vostra disposizione per le vostre esigenze. Arrivederci, ai prossimi approfondimenti. Grazie.